Stai ascoltando Donne musiciste dell'antica Grecia, il podcast di Antonia Cappelli. Episodio 1 La parola musica deriva dal greco musichè, vale a dire educazione dell'intelletto per mezzo delle arti, quelle delle muse. Esiodo, poeta greco antico, vissuto tra l'ottavo e il settimo secolo a.C., nel suo poema Teogonia racconta che Zeus, avendo vinto contro i titani, aveva portato un nuovo ordine nel mondo. In Tessaglia, ai piedi del monte Olimpo, Mnemosine, consorte di Zeus e dea della memoria, partorì nove figlie. La nascita di queste fanciulle rese eterna la vittoria del padre e portò tanta gioia nell'Olimpo. I loro canti, balli e musiche suonate ravvivavano l'ordine e la tranquillità degli dèi, alienando le negatività del mondo. Fu proprio Esiodo che per la prima volta diede il nome alle nove musee, e forse lo stesso di inventarli. Conosciamoli Calliope, musa della poesia epica, rappresentata con stilo e tavoletta di cera. Clio, musa della storia, rappresentata seduta con in mano una pergamena. Euterpe, musa della poesia lirica, suonatrice di flauto. Erato, musa della poesia corale ed amorosa. Melpomene, musa della tragedia, ritratta con maschera, spada e bastone di Eracle. Polinia, musa degli inni religiosi e dell'oratoria. Il suo nome significa proprio colei che ha tanti inni. Taglia, la musa della commedia, indossa maschera comica e ghirlanda d'edera. Terzicore, la musa danzatrice. Urania, musa dell'astronomia, rappresentata con il globo in mano. La musica della civiltà greca, in epoca arcaica, vale a dire dalla nascita fino al VI secolo a.C., è un misto tra storia e leggenda. Intorno al XV secolo a.C., gli dèi diedero origine agli strumenti musicali. Ed è importante notare che proprio Olimpo fu il creatore dei nomoi. Nomoi? Sì, sono delle melodie standardizzate, legate all'ethos, vale a dire all'etica, che variavano a seconda delle occasioni. Il termine nomoi significa proprio leggi. Platone li descrive come canti citaredici, cioè scritti per essere accompagnati dalla lira, probabilmente codificati da terpandro, seguendo regole rigidamente codificate, con lo scopo di generare diverse emozioni. sempre terpandro, classificò i nomoi in base alla provenienza delle aree geografiche in cui si praticavano. Gli aedi, poeti colti che si accompagnavano con lire di diverse dimensioni per cantare le gesta di eroi e dei, hanno dato spunto proprio all'Iliade di Omero. Oltre a cantare le gesta epiche, gli aedi trattavano anche testi di vita mondana e parlavano anche di politica. Essi accompagnavano con il flauto di pan, detto syrinx. Nelle campagne si danzava e cantava e gli strumenti musicali utilizzati erano flauti di vario genere. Le melodie greche si muovono in ambiti ristretti e procedono per gradi congiunti o piccoli salti. Utilizzerò la terminologia odierna per indicare i suoni, sottintendendo il fatto che questa civiltà utilizzava le lettere dell'alfabeto fenicio per indicare i suoni della musica strumentale e quelle dell'alfabeto greco per la musica vocale. L'altezza delle note non era fissata, al contrario il rapporto intervallale risultava rigidamente codificato. Esso generava i modi e i generi. Fino al V secolo a.C. l'esecuzione musicale era libera e lasciata all'istinto dei poeti e musicisti. La poesia era indissolubile dei suoni e il ritmo della parola era fondamentale. I musicisti conoscevano la teoria delle armonie, ignorando i concetti di consonanza e di dissonanza. Nell'era della Grecia classica, Pitagora fu il primo matematico a fissare le distanze intervallari, traducibili in frazioni. Poi toccò ad Aristossene da Taranto, conosciuto come il primo musicologo e teorico della storia della musica, a spiegare la teoria e le leggi armoniche in diversi trattati. Questi figura anche Frenide di Mitilene. Lo studio è ricco di indizi ricavati da fonti elleniche e che mettono in luce una differenza tra musica antica, che risulta essere legata alla poesia, e le nuove tendenze, cioè dare più spazio alla musica e al mimetismo, vale a dire la riproduzione di voce e suoni naturali con gli strumenti musicali. Le funzioni svolte dal poeta erano molteplici, compositori della musica per la sua opera e coreografo anche delle danze. Questa stretta connessione è un modo in cui si esprime il legame tra parola, musica e danza, che costituisce proprio l'arte delle musee. Alle parole al canto si riconosce un ruolo primario, adesso danza e musica fanno da supporto. Le scale utilizzate sono eptafoniche, cioè di sette suoni, generate dall'unione di due tetracordi. Tali scale non vanno pensate come quelle oderne, ossia 7 più 1, ma come 4 più 4. Perché? Perché il tetracordo è la successione di quattro suoni discendenti e l'unione di due tetracordi originava proprio le armonie. Esiste un interessante studio di Amedeo Visconti intitolato Aristose da Taranto e pubblicato da Pubblicazione du Centre Jean Verard di Napoli nel 1999. Amedeo scrive, nella seconda metà del quinto secolo a.C. sono attivi rappresentanti della musica nuova, tra questi figura anche Frenide di Mitilene. Una donna, lo studio è ricco di indizi ricavati da fonti elleniche e che mettono in luce una differenza tra la musica antica, che risulta essere legata alla poesia, delle nuove tendenze, cioè dare più spazio alla musica e al mimetismo, vale a dire riproduzione di voce e suoni naturali con gli strumenti musicali. Le funzioni del poeta erano molteplici. Il poeta era il compositore della musica per la sua opera e anche coreografo delle danze. Questa stretta connessione tra i diversi elementi è un modo in cui si esprime proprio il legame stretto tra parola, musica, danza e quindi questo non è altro che l'arte delle musee. Alle parole al canto si riconosce il ruolo primario e adesso danza e musica fanno da supporto. Cambierà qualcosa in età ellenica. Bene, adesso parliamo delle scale, dette anche armonie. Le scale sono eptafoniche, cioè costituite da sette suoni e generate dall'unione di due tetracorti. Ma cos'è il tetracorto? È una successione di quattro suoni discendenti compresi in una distanza di quarta giusta. I suoni potevano legarsi l'uno all'altro a distanza di tono, semitono e un quarto di tono. Ecco che a seconda degli intervalli che legavano i tetracorti si ottenevano i tre generi diatonico, cromatico ed enarmonico. Il genere diatonico era costituito da due intervalli di tono e uno di semitono. Per esempio mi, re, do, si. Il genere cromatico invece era costituito da un intervallo di terza minore e due semitoni. Per esempio mi, do, diesis, do e si. Il genere enarmonico invece era costituito da una terza maggiore e due intervalli di quarto di tono. Mi, do, si più un quarto di si. Ogni genere poteva essere unito generando le armonie, cioè, come ho già detto prima, le scale. Le armonie principali erano tre. Dorica, Frigia e Lidia. Ascoltiamo quella dorica. Ascoltiamo la Frigia. La Frigia. Ascoltiamo la Lidia. Come avete potuto notare, tra un tetracordo e l'altro vi era un piccolo respiro, detto di Azeusi. I due tetracordi potevano anche essere invertiti, così facendo il quarto e il quinto suono erano uguali e pertanto per completare la scala alla fine si inseriva un Froslambanomenus, vale a dire l'ultima nota. Questa inversione determinava le armonie ipodorica, ipofrigia e ipolitia. Ascoltiamo l'armonia ipodorica. Ascoltiamo l'armonia ipodorica, ipofrigia. l'armonia ipodorica, ipofrigia e ipofrigia. Tra il VI e il V secolo il teatro divenne la forma musicale per eccellenza. Siamo proprio nel periodo classico e Aristotele afferma che la tragedia nasce nel Peloponneso dal Diti Rambo, canto corale in onore di Dioniso. I cori divennero determinati e fu proprio da essi che si generò la recitazione. Dall'alternanza di canti e narrazione si passò alla teatralità. Nacquero gli attori che personificavano gli dei. Ma come erano i cori? Il gruppo di coristi si disponeva in semicerchio. I canti erano all'unisono, a cappella oppure con accompagnamento alternanza di suonatori di Aulos. I suonatori di Aulos quando accompagnavano i cantanti suonavano la stessa melodia cantata. Pertanto il compito era quello di rinforzare la melodia della voce. Il coro non aveva solo la funzione di cantare ma anche quella di danzare. Le danze si chiamavano orchesis ed erano seguite davanti alla scena. Da qui proprio il termine di orchestra, vale a dire il punto in cui si posiziona l'orchestra. Per i greci il teatro era una forma di educazione indispensabile per i cittadini e per la formazione dei giovani. Arrivando alla Grecia ellenica, cioè quella dell'impero romano, Aristotele afferma che il solista poteva essere addestrato e preparato a seguire la musica nuova, con i suoi sperimentalismi, più facilmente che non un coro. Si capisce bene che la musica strumentale sta acquisendo sempre più importanza. E le donne potevano giocare di tutto questo? Ricordate il nome di Nichilene? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao! 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 Ciao!